Inedicola la sferza settimanale politico-amministrativo del Collegio Andrea Barletta, diretto da Michelangelo Pansini, stampato dall'ATIP. Papeo di Barletta, con sede in Via degli Orti, di fronte al Teatro di Lillo. Ferdinando Caffiero nominato subcommissario del Comune di Barletta. Il dottor Michele Mauro, ufficiale sanitario e autore di importanti pubblicazioni sulle condizioni igieniche della città, perde la vita durante una terribile epidemia di tifo, che devasta Barletta. Con lui stroncati dal terribile morbo il dottor Giuseppe Canfora e il chirurgo dottor Francesco Centaro, l'anno dopo sarà colpita mortalmente Lidia Casardi Buonamici, madre dell'amministratore. Ferdinando Casardi. Si estingue la comunità greca della Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il Tempio è affidato al capitolo di Santa Maria Maggiore. Demolito il torrione di Santa Lucia, detto anche di San Nicola, perché anticamente era alle spalle della Chiesa, che portava questo nome, ubicata sul sedime oggi occupato da Villa Manuti. Sorteggia dei maritaggi nel porticato del Teatro Comunale Curci. Prescelte otto orfani su 196 iscritte in elenco. Al centro di piazza Stazione, prima che fosse costruita la fontana, vi era un lampione a gasa 5 lampade, attorno al quale, per tradizione, effettuavano il giro i cortei nuziali formati da carrozze tirate dai migliori cavalli della città. Grazie a tutti.